Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video vorrò ringraziare i miei Si si vede, si si vede 40 iscritti Si ragazzi, Multicaro Mino 10 ha raggiunto 40 iscritti Yeeey Bye E ha raggiunto la quarta tappa Oggi Il 28 settembre 2011 Poco fa Vabbè ragazzi Volevo ringraziare i miei iscritti Però mi dispiace ma non prendetevi Cioè non prendetevi Come devo dire, non prendetevi collera Perché i nomi non li dico Perché se Visto che questi stanno così Non li dico, ne posso dire solo alcuni Ma se metto mostra tutto I nomi mi vengono a casaccio Perciò non mi ricordo quali sono Però li ringrazio comunque Gli altri 10 iscritti E grazie comunque a voi Tra poco Tra poco i 50 iscritti Fa il concorso Potrete partecipare in tanti E Il premio non sarà più quello che vi ho detto Nell'ante prima Perché non ho potuto comprarlo il premio Però Nel video del concorso Vi dirò il premio Iscrivetevi Altri 10 Oppure quanti ne volete voi Basta che arrivate a 50 Così faccio il concorso E raggiungiamo la quinta tappa Vai Multicarmine 10 Ha raggiunto i 40 iscritti Il 40esimo iscritto E' stato PokéJR 100 39esimo PokéShiny PokéShiny 100 PokéJR 100 E PokéShiny 100 Va bene ragazzi Il video di ringraziamento finisce qui Sta durando già 2 minuti Perciò dovrebbe durare 50 secondi Un minuto E ringrazio molto Gli altri 10 iscritti E soprattutto Tutti e 40 Gli iscritti E Ci vediamo al prossimo video E Fra Quando arriveremo a 50 Al concorso E ciao da multicarmine 10 Votre commentate e iscrivetevi Ciao